Siamo qui con Domenico a BMO Training Ground. Domenico sei arrivato una settimana fa qui a Toronto, come ti hanno accolto all'aeroporto, la città, come l'hai vista? La città è stupenda, mi hanno accolto molto bene, sono molto contento di essere qua, ora non vedo l'ora di iniziare a giocare. E quali sono i tuoi obiettivi qui a Toronto? Cosa vuoi fare qui con la squadra? L'obiettivo è riportare Toronto in alto, come lo era due o tre anni fa. Sappiamo che negli ultimi due anni ci sono stati delle difficoltà, ma siamo qui per aiutare tutti e tornare ad alti livelli. Un'ultima domanda, hai iniziato la tua carriera al Genoa, te ne sei andato, sei tornato, te ne sei andato. Cosa significa il Genoa per te e quali sono i piani per il futuro? Il Genoa per me è tutto, è stato tutto in Italia e lo è ancora. Mi è dispiaciuto lasciarli, però penso che in questo momento era la scelta migliore da fare. Però adesso penso al Toronto, ho un anno e mezzo di contratto qui e poi vediamo quello che succederà. Grazie Mimmo, in bocca al lupo.